Musica Cari figlioli, salve ben ritrovati. All'E3 di ieri, non inteso come orario ma come evento del E3 di Los Angeles, è stata annunciata finalmente la data di uscita di Cyberpunk 2077, mamma mia che attesa figlioli questo gioco sta mettendo su un hype assolutamente pazzesco. E visto che nel gioco è comparso l'attore Keanu Rins, che è quello lì che ha fatto Matrix e tantissimi altri film, è stato anche invitato e presente di persona all'evento, guardate qua. Uscirà il 16 aprile del 2020, figlioli? Sì, quindi c'è ancora un bel po' da aspettare, 10 mesi circa, su Steam c'è scritto così. Questo gioco sarà sbloccato tra circa 10 mesi, al prezzo di 59,99€, da come ho capito solamente su due piattaforme, PC e Xbox. Ah, mi dispiace per gli altri, ma evidentemente si devono attaccare. No, scherzo, dai, probabilmente ci sarà anche per PS4, anche se inizialmente si parlava esclusivamente per la PS5. Grazie a tutti!